E' sempre di me il 24 Presidente Tonelli, il Futsal Veneto si riconferma ai vertici con questo quinto successo che manda nella leggenda la luparense Proprio è così e questo ovviamente da scrivere al Presidente Stefano Zarattini con cui due secondi fa gli facevo i complimenti al Presidente Zarattini Come a tutto lo staff, al mister e soprattutto ai ragazzi che sono straordinari perché hanno giocato davanti a una grande squadra, quella dell'Acqua e Sapone E' un grandissimo pubblico, ovviamente in terra anche non neutrale per loro perché il tifo era tantissimo Insomma complessivamente a mio avviso un buono spot per il Futsal Italiano Un pubblico pazzesco, una serie prolungata in gara 5 che ha offerto tantissimo spettacolo, sicuramente uno spot per questo sport Si è divertito Presidente? Si, al di là del divertimento rimane il fatto che tutti i playoff sono stati pieni di pubblico e questo ovviamente è un fatto positivo da valutare con attenzione In termini sia di proiezione futura sia soprattutto in termini di popolarità del Futsal che sta acquisendo una popolarità forte Ho visto tanti bambini anche oggi e questo ovviamente come anche a Bassano e questo a merito di due società che stanno investendo anche sull'attività giovanile Devono farlo ancora di più perché il presente del Futsal è dei bambini Più i bambini vengano a vedere le partite, più soprattutto partire di questo spettacolo, più il Futsal si radica sul territorio e avrà successo Grazie Grazie